Vediamo che danno in tv Ciao bambini, sono Dora l'esploratrice! Ok, sta merda, via! Sta merda lo dici a tua sorella e poi una volta che inizi a guardare un episodio di Dora l'esploratrice devi guardarlo tutto! Bah bah! E' inutile che provi a cambiare canale, idiota! Quindi rassegnati e cominciamo! Eh? Lui è il mio amico Babush Insieme a lui esploreremo il mondo! Saluta Babush! No, non voglio Ho detto saluta! Ciao Basbush! Babush! Basbush! Babush! Babush! Ababush! Busbash! Basbubash! Bababua! George Bush! Buasabu! Busbush! Basbush! 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 Hai problemi di udito? E vabbè ma se cambi nome come faccio io? Oggi insieme al nostro amico Shaburaba andremo in montagna! Adesso tocca a te aiutarmi! Dov'è la montagna? A destra o a sinistra? A destra! No idiota! La montagna è a sinistra! Ma hai cambiato! Prima era a destra! Ripeti dopo di me! La montagna è a sinistra! La montagna è a sinistra! Ma se è a destra perché dici che è a sinistra? Ma non hai detto che era a sinistra! Qui qualcuno non sa ancora distinguere la destra dalla sinistra, vero? Ti insegnerò un trucchetto! La sinistra è sempre all'opposto della destra! E viceversa! E grazie o sasicci! Per il nostro viaggio dovremmo rifornirci di cibo! Quindi porteremo 5 mele! Come si dice mela in inglese? Questa la so! Apple! Apple! E' una via di mezzo tra A e Apple! 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 What is... What? A words... What a lot! iPod! Star Wars! What New York City! Antonio! L'inglese non lo sai! Molto molto male! Ma torniamo alla matematica! Se delle mie 5 mele ne regalo 2 a Franksvurf... Ma non si chiamava bash-bush-bah! Se delle mie 5 mele ne do 2 a Franksvurf... Ma la metà più 1 di esse meno 2 terzi ha il coefficiente di x uguale beta alla meno y alla terza... Quanto dista Giove da Venezia? Ma che c... Non si dicono le parolacce! Ma non mi è dato neanche il tempo di dirla! E' pronto la mamma di Dario? E' suo figlio dice le parolacce nei video! Ma non è vero! E non sa nemmeno quanto fa 5 mele meno 2 mele! Fa 3! Il suo inglese fa schifo! E non riconosce la destra dalla sinistra! Hai finito! Dario! Eh? Quanto fa 5 meno 2? Ma Dora ti ha chiamato veramente! E non devi dire le parolacce nei video! Prendi questo! Prendi questo! Perchè! E non ti ha chiamato! Perchè! 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 Grazie a tutti.